Trovare l'alba dentro l'imbrunire è il filo conduttore della festa patronale di Santa Margherita Ligure. Ci prova la Santa a tracciare ancora oggi la strada per incamminarsi verso la luce. Lei, giovane adolescente, che subì il martirio per aver resistito alle tentazioni del suo tempo. E dunque è l'icona di un martirio appunto vissuto come una grande forza interiore e una grande dedizione al bene contro ogni logica del male. Venerdì 15 inizia il tempo di preparazione, ogni sera guidato da diversi sacerdoti del territorio. Quest'anno sono previsti due momenti di apertura alla città dopo la messa alle 21.15 ad iniziare da sabato 16 luglio. Sulla vicenda famosa dei Cereghino di Favale di Malvaro e dunque la storia e un po' dei rapporti difficili inizialmente tra valdesi e cattolici ci accompagnerà in questa serata anche la corale ecumenica del Tiguglio e il teologo Brunetto Salvarani. Quindi domenica un altro appuntamento teatrale sulla figura di Charles de Foucault, un po' icona di fratellanza universale. Lunedì 18 alle 21 il concerto della Filarmonica Colombo. Martedì sera invece la preghiera in musica per la pace in Ucraina in Basilica. Il giorno della festa infine è il 20 luglio mercoledì con la presenza dell'Arcivescovo di Genova Marco Tasca. Alle 18 in Basilica la messa solenne, dopo cena alle 21 recuperiamo la possibilità della processione ma senza perdere questa occasione bella che i duani della pandemia ci hanno offerto di vivere una preghiera in Piazza del Sole davanti al mare in modo molto curato e suggestivo. Dunque con il canto del Vespro partirà la processione che ci porterà in Piazza del Sole dove vivremo un momento di preghiera per la città, di ascolto dell'Arcivescovo e poi la tradizionale benedizione con le reluche della Santa al mare e la consegna sul mare dei Lumini.